ciao a tutti amici e amiche di quinta dimensione letture bentornati o benvenuti qui sul mio canale se sei per la prima volta qui che mi ascolti un benvenuto o benvenuta oggi facciamo un decreto una cosa molto bella una cosa utile una cosa che non tutti sanno che può venire fatta e quando lo si scopre veramente ti si apre un mondo oggi facciamo una cosa un po diversa perché il mio canale comunque intende offrire anche questo tipo di supporto tipo di guarigione comunque modi diversi diciamo non solo interrogando oracoli e carte ma anche tutto quello che si può fare da sé che puoi fare tu che ascolti per migliorare la tua vita per migliorare il tuo stato per progredire per andare avanti verso questa ascensione questa tua ascensione questo tuo innalzarti quindi oggi voglio fare questo decreto praticamente il decreto si chiama decreto per lo scioglimento dei voti e dei debiti karmici dell'arcangelo raziel bene ti vado così velocemente prima di iniziare ad illustrare un po come funziona il decreto poi ti dico già da subito che mi raccomando ascolta tutto non saltare il video perché importante dall'inizio alla fine ti metto anche adesso un messaggio poi alla fine quando avremo recitato il decreto e sotto ognuno di questi oracoli c'è un messaggio dell'arcangelo raziel vedremo vedremo quale c'è per te va bene prima però prima di fare questo ti spiego un po che cos'è comunque il decreto come possiamo come potete farlo ma possiamo anche mi ci metto anch'io vi posso assicurare che i decreti funzionano ve lo dico per esperienza personale ed è un percorso molto bello un cammino che quando lo si scopre ripeto si apre un mondo ci si sente molto più più ascoltati si vedono anche risultati comunque ci vuole su tutto e per tutto ci vuole la fede ci vuole la pazienza ma soprattutto credeteci perché se siete voi primi a non crederci non funziona niente quindi dovete mettere l'intento vero del vostro cuore in tutto questo non recitate tanto per o perché va avanza non so quei cinque minuti di tempo non è l'atteggiamento giusto bisogna mettersi in testa di crederci di farlo coscientemente consapevolmente allora per esempio possiamo fare questo decreto perché cosa abbiamo detto quindi il scioglimento dei voti debiti carmici perché questo perché succede che nella vita ci si accorge specialmente dopo diciamo nella seconda parte della vita ci accorgiamo che ci sono delle situazioni che tendono a ripetersi circostanze persone con degli atteggiamenti che tendono ad essere sempre quelli tant'è che ci chiediamo ma perché incontro sempre questo tipo di persone eccetera potrebbero potrebbe essere una diciamo un voto che voi avete fatto in altre vite in vite passate sto parlando e quindi vi portate questo fardello da chissà quando ripeto non è solo per cioè è in generale per la vostra vita questo decreto lo potete fare lo potete recitare per tante situazioni se vedete che nel lavoro va sempre così se vedete che l'amore va sempre così non so anche per la salute per migliorare la salute per i soldi per il successo per la vita in generale eccetera può essere fatto comunque sia non c'è una situazione specifica qui si tratta di recidere tutti i diciamo i legami energetici di questi voti e quindi anche per quello che riguarda la vostra situazione karmica debiti karmici voti che avete fatto e non volete più eccetera perché l'arcangelo rasel perché l'arcangelo rasel è diciamo è un essere di luce è un estremamente saggio è considerato riconosciuto come un potente mago nel regno celeste ed è il detentore conosce custodisce tutti i segreti dell'universo è un'entità di luce molto molto vicina al creatore come altezza ed è anche diciamo l'arcangelo considerato quello che possiede delle competenze esoteriche mi spiego quindi potrebbe essere anche di aiuto anche in altri ambiti sul piano terreno nostro qua ma anche su piani altri piani esistenziali tipo la comprensione spirituale vostra no quando fate un percorso di crescita quindi potete chiedere maggiore intuizione maggiore crescita maggior potere no come potrebbe essere per esempio anche quello di leggere le carte insomma chi fa certi tipi di lavori con la luce chi invoca gli angeli gli arcangeli insomma queste cose qua per aiutarvi ad essere più intuitivi potete chiedere sempre a raziel appunto l'arcangelo raziel questo tipo di cose questo tipo di aiuto possiamo chiamarlo appunto fargli la nostra richiesta e il cristallo associato all'arcangelo raziel è il cristallo di rocca tanto per dirvelo quindi potete anche chiedere all'arcangelo raziel di caricare con la sua energia ok un cristallo di rocca se lo avete in casa anche piccolino non importa la grandezza per appunto caricare di sua energia che poi dopo voi magari terrete in mano terrete con voi se avete dei ciondoli se avete dei braccialetti tipo questo mio qua il primo che è di cristallo di rocca appunto e quindi chiedete tanti non chiedono dovete chiedere quindi appunto con questo decreto cosa possiamo fare chiediamo all'arcangelo raziel appunto di sciogliere tutti i blocchi i traumi i debiti carmici che possono derivare possono venire anche da esperienze da lezioni di vita passate che però magari ancora perdurano nella nostra vita attuale no e quindi questi voti questi debiti se non li liberate se non vengono sciolti e quindi tutto quello che avete fatto nelle altre vite ma che voi ora non vi ricordate comunque e non ne siete consapevoli se non li sciogliete questi tipi di voti di catene rimangono cristallizzati cioè si cristallizzano nel vostro essere nel vostro campo energetico quindi si ripresenteranno sempre cioè in questa vita delle prossime vite appunto recitando questo decreto poi sempre in collaborazione chiaramente con con l'arcangelo raziel del regno di luce ma anche altri angeli arcangeli possiamo finalmente porre fine a tutte queste zavorre pesantezze tutti gli schemi che abbiamo no ci sentiamo proprio prigionieri che tendono comunque a ripetersi sempre cioè ciclicamente proprio nel tempo andando avanti di vita in vita quindi diciamo che è molto importante tutto quanto tutto questo qui questo questo tipo di recitazione eccetera eccetera quindi mi raccomando di concentrarvi dopo vi metto magari in sovraimpressione anche l'arcangelo raziel che molti magari conosceranno ma tanti no non lo so però insomma adesso vi faccio vedere anche poi dopo lo metto su quando monto il video e come recitare quando recitare e poi iniziamo praticamente qua funziona così allora un decreto un'affermazione molto potente il decreto va recitato almeno 21 giorni almeno 21 giorni ma comunque sia è da recitare finché tu te lo senti finché tu non ti senti più libero non ti senti più libera comunque sia va recitato fin quando ti senti ma almeno diciamo per 21 giorni ma come va recitato innanzitutto prima di recitarlo qualche respiro è un minuto di concentrazione di respiro quelle sono cose dovute insomma un attimo di quiete un attimo di calma come quando molti di voi magari fanno meditazione sanno come impostarsi come tranquillità tranquillizzarsi non dico di azzerare il cervello perché non è possibile però quantomeno già con dei tipo tre respiri profondi magari belli profondi e poi si inizia a recitare appunto che altro dirvi quando lo recitate mi raccomando la voce cioè non deve essere né troppo alta né troppo bassa ma udibile a voi stessi cioè l'importante che la sentiate voi non c'è bisogno di urlare particolarmente o neanche mental mentalmente non va bene il decreto non si può recitare sulla mente il decreto va proprio recitato con la voce ripeto non alta però l'importante che la senti tu anche sottovoce va benissimo ma quanto basta tu ti devi sentire quando lo reciti questo è mi raccomando importante perché insomma se no non funziona cioè deve essere proprio allora intanto mischiamo qua vi preparo tre stese senza però il testimone scegliete la prima la seconda o la terza oggi non voglio intromissioni di nessun tipo di colori numeri eccetera voglio che tirate fuori proprio il meglio di voi l'istinto vediamo che messaggio c'è proprio a livello generale angelico ma sempre correlato tutto quello che stiamo facendo chiaramente ma è sempre correlato non c'è mai così diciamo lo sbaglio o il per caso la stesa 1 la stesa 2 e la stesa 3 e ci metto sopra qui ci sono tre carte dell'arcangelo raziel tutte e tre sono di raziel c'è raziel in tutte e tre ma il messaggio è diverso per ognuna di voi prima seconda terza intanto che io preparo un attimo la lettura del decreto che me l'ho preparato qui a fianco per leggerlo insieme a voi vado piano chiaramente ve lo leggo piano la prima la seconda la terza non metto niente scegli tu vi lascio qualche secondo intanto io preparo il decreto allora vi ricordo l'ultima cosa che nella parte finale quando recitiamo il diciamo comunque il decreto c'è la richiesta di di fare questa pulizia all'arcangelo raziel mentre dormi cioè si chiede l'arcangelo raziel di fare poi cioè allora tu con il decreto chiedi va bene poi però la pulizia che viene dall'alto dall'arcangelo raziel chiediamo che ci venga fatta di notte perché la mente conscia almeno sta zitta meglio così si fa si fa questo tipo di cosa perché funziona meglio cioè durante il sonno poi viene la pulizia viene il lavoro appunto divino dell'arcangelo senza interferenza nostra e della nostra mente questo è molto importante allora vi lascio ancora un po quindi cominciamo col fare qualche respiro profondo concentrate più un po rilassatevi riposatevi tranquilli rilassati e recitiamo arcangelo raziel chiedo il tuo supremo aiuto e in tal modo invalido ora e per sempre ogni voto dichiarazione patto fatto in maniera volontaria inconsapevole manipolatoria estorta o ereditata in qualsiasi direzione del tempo spazio energia di sofferenza povertà castità obbedienza celibato nubilato penitenza flagellazione morte abnegazione autocastigo siano essi latenti manifesti o potenziali annullo tutti gli effetti negativi di tali voti ora e per sempre è fatto è fatto è fatto grazie grazie tutti i miei blocchi carmici si dissolvono nella maniera più delicata e piacevole possibile arcangelo raziel mentre di notte dormo ti prego di liberarmi nella maniera più delicata e piacevole dai traumi di questa vita e delle precedenti ancora accumulati dentro di me ti ringrazio con tutto il cuore bene questo era il decreto che vi invito a recitare per almeno 21 giorni partite il giorno che volete decidete contate 21 giorni segnatevano nell'agendina nel telefonino dov'è iniziate il primo giorno fino al ventunesimo compreso e se vi sentite dopo il ventunesimo giorno ancora bisognosi di ripeterlo perché vi piace perché perché ve lo sentite andate di istinto vostro quindi il ciclo di 21 però nessuno dice niente cioè qui si può continuare comunque a recitarlo finché te la senti va bene questo scioglie tutti i blocchi scioglie tutti i voti è consapevoli anche storti e vedrete che migliorerà con il tempo perché sicuramente qualcuno lo sente che c'è qualcosa che non è più controllabile cioè che non riuscite a a staccarvi questa cosa che si ripete in continuazione e comincia a venire qualche dubbio che ci sia un qualcosa di molto antico e molto vecchio che non si riesce a staccare chiediamo aiuto appunto l'arcangelo rasel fatemi sapere poi nei commenti ragazzi ragazze se vi piacciono questi tipi di cose faremo altri perché hanno tantissimo di materiale per voi se volete se apprezzate se gradite ho tantissimi tipi di lavori va bene con gli esseri di luce che vi posso dire assolutamente che funzionano ora se non avevi ancora scelto scegli un messaggio per te dall'arcangelo rasel e dal mondo comunque rea evangelico 1 2 o 3 prendo anche il libricino addetto per l'ulteriore spiegazione abbiamo sotto ogni carta comunque già la frase per te ma per quanto riguarda questo oracolo qui c'è anche un'ulteriore spiegazione che ti vado a leggere in tempo reale ho già pronto il manualino in mano quindi andiamo subito con la prima perché ha scelto il primo mazzetto appunto abbiamo sotto quello divino e poi abbiamo l'arcangelo rasel comprensione spirituale ti sto comunicando informazioni e simboli esoterici per aiutarti a comprendere le verità spirituali quindi qui c'è qualcuno che anche un po avvezzo a praticare qualche cosa e questo comunque l'arcangelo rasel anche se vi ripeto in fase di montaggio ve lo metto ogni tanto in sovraimpressione o comunque cercatelo su internet quindi comprensione spirituale per te ti vado anche a leggere ulteriormente poi ti apro quest'altro ti vado anche a leggere ulteriormente la comprensione spirituale quindi eccolo qua la tua comprensione spirituale si eleva a un livello superiore man mano che ti apri a nuovi modi di vedere la vita tieni la mente aperta e lascia andare i pensieri e le illusioni limitanti presta attenzione ai segnali ovvero alle informazioni che ti arrivano tre volte o più nota le forme geometriche i simboli che recepisci con la vista fisica e la visione psichica sappi che l'incremento della tua consapevolezza può comportare cambiamenti nelle tue relazioni e nei tuoi obiettivi professionali io ti guiderò in questi cambiamenti affinché la tua vita possa rispecchiare le esperienze interiori ricordo appunto poi qui ci ricorda che appunto raziel è il mago e l'alchimista del regno degli arcangeli ci aiuta a comprendere i concetti che sfugono alla logica comune quindi chiedi a raziel di entrare nei tuoi sogni insieme a lui compirai un viaggio dell'anima nei luoghi del sapere in cui raziel ti aiuterà a scoprire segreti e verità nascoste al risveglio forse non ricorderai o non comprenderai del tutto gli insegnamenti ricevuti ma la sua conoscenza resterà per sempre impressa nel tuo subconscio e da lì ti guiderà nel corso della giornata molto bello vediamo anche l'altro cambiamenti nella vita materiale 665 655 cambio di casa automobile per te stesa 1 qua ci sono anche cambiamenti di questo tipo facciamo così quindi la 1 abbiamo detto questo perché hai scelto la seconda l'arcangelo raziel cosa vuole dirti chiaroveggenza sto aiutando la tua visione faccio vedere un po di più spirituale a risvegliarsi appieno così potrai vedere chiaramente l'amore del cielo eccoci qua ti sto aiutando vedi nella visione spirituale andiamo un po leggere la chiaroveggenza quindi l'arcangelo raziel qui ci dice chiaroveggenza per te allora la tua chiaroveggenza può assumere forme diverse immagini fuggievoli che vedi con l'occhio della mente sogni visioni ricorrenti nel mondo fisico aure ed energie o apparizioni tutte le sfaccettature della chiaroveggenza sono splendide e variegate gioiscine e fidati di loro mantieni l'intenzione di vedere solo l'amore e vedrai solo l'amore laura di raziel è composta da tutti i colori dell'arcobaleno come un bellissimo prisma luminoso lavorando con il quarzo di alino o cristallo di rocca vi dicevo prima il quarzo di raziel rafforzi la tua chiaroveggenza e ti senti più vicino a raziel molto bene stesa 2 qua vedete pure i lampi via il vecchio avanti il nuovo 55 per te cambiamenti vantaggiosi in arrivo bello quindi messaggio ulteriore per te infine chi ha scelto il terzo gruppo arcangelo rasiel vediamo cosa ti dice riprenditi il tuo potere usa il potere e la determinazione che dio ti ha donato per manifestare gioia e felicità nella tua vita qua ragazzi bisogna un attimo riprenditi il tuo potere vediamo anche l'ulteriore spiegazione di questo ultimo riprenditi il tuo potere quindi perché hai scelto la tre sei un luminare un saggio un dotto un suomo sacerdote o una grande sacerdotessa un mago e un maestro e supremo della manifestazione ora il momento di chiamare a raccolta il tuo potere la tua forza spirituale per far valere la tua autorità con amore e con fermezza trasforma le intenzioni in realtà esprimile sotto forma di preghiera e chiedi di ricevere una guida e dei segnali per concretizzare le tue manifestazioni a livello più alto possibile l'arcangelo rasiel il cui nome significa segreti di dio ti aiuterà a comprendere e a mettere in pratica le verità spirituali e i concetti esoterici invoca rasiel per assisterti nella tua opera alchemica trasformare le tue idee in oro addirittura bene eh potenza ragazzi qua eh spada alta consiglio per te dai miei oracoli è realizzazione intuizione potere personale cioè non posso crederci potere 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 personale questa proprio agisci ora andrà tutto bene 222 222 questi sono i numeri associati al mio oracolo a questa carta del mio oracolo che dirvi spero vi sia piaciuto andatevi a risentire magari il decreto eh i consigli dell'arcangelo rasiel oggi che non era qui per caso sicuramente e non sei qui neanche tu ad ascoltare per caso era questo il messaggio che doveva arrivarti oggi ti ricordo il quarsolialino cristallo di rocca sotto forma di braccialetto sotto forma di questi bei cristalli qua da tenere in casa orecchini non so ciondoli anche perché no nelle borse insomma portatevi anche in giro eh volendo quindi va tutto bene tutto bene sempre chiarei chi li può anche caricare tra l'altro di energia nel particolare cristallo di rocca può essere chiesto anche all'arcangelo rasiel che possa imprimere l'energia nel cristallo che poi sta vicino a voi vicino a voi che vi portate addosso proprio anche in quello in casa che tenete in casa quindi vi ripeto fatemi sapere nei commenti anche se volete altri video di questo tipo se vi piace perché ripeto di materiale l'ho tantissimo per il lavoro personale sviluppo personale eccetera sono proprio il mio lavoro ragazzi quindi lo faccio con piacere e ve lo metto a disposizione qua perché questo devo fare perché c'è un motivo anche per me se sono qui non è solo per voi c'è anche per me quindi divulgo volentieri le parole di questi esseri che dirvi io vi ringrazio chi non si è iscritto al canale si iscriva pure attivate la campanellina tutte le info le trovate sotto per quanto mi riguarda per quanto riguarda me il mio canale leggete tutto sotto e per oggi vi saluto ancora e vi aspetto magari in un prossimo interattivo grazie ciao a tutti